Nella vasta savana del cinema, alcuni film emergono come abbeveratoi, attirando il pubblico ancora e ancora. Sono i ruoli che definiscono una carriera, le interpretazioni che si imprimono nella nostra memoria collettiva. Pensiamo a Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, o a Marlon Brando in quelli di Don Vito Corleone. Per Michael Douglas, Un giorno di ordinaria follia è stato uno di questi film. Douglas, già un peso massimo di Hollywood, si è ritrovato catapultato in una nuova stratosfera di fama. Prima di Un giorno di ordinaria follia, Douglas era spesso stereotipato come l'affascinante, anche se un po' spietato, anti-eroe. Eccelleva nel ritrarre personaggi in bilico tra ambizione e moralità. Eppure, c'era una profondità nel talento di Douglas che anelava a un ruolo in cui potersi esprimere appieno. Un giorno di ordinaria follia gli ha offerto questa opportunità. Nei panni di William D. Fence Foster, un operaio disoccupato del settore della difesa Pushed to the Brink, Douglas ha offerto un'interpretazione cruda e indimenticabile. Sparito il personaggio elegante di Wall Street. Al suo posto c'era un uomo fuori di testa, una polveriera di frustrazione e disperazione. È stata una mossa rischiosa per un attore al culmine della sua carriera, ma Douglas ha accolto la sfida con entusiasmo. La genesi di ogni grande interpretazione risiede nella sceneggiatura. Una sceneggiatura ben fatta è il fondamento su cui un attore costruisce il suo personaggio. Per Douglas, la sceneggiatura di Un giorno di ordinaria follia, è stata un'attrazione immediata. Scritta da Ebbe Rose Smith, presentava un protagonista al contempo riconoscibile e ripugnante, un uomo spinto ad azioni estreme dalle pressioni della vita quotidiana. Douglas ha parlato a lungo della sua reazione viscerale alla sceneggiatura. Riconosceva in Defense un riflesso delle ansie e delle frustrazioni che ribollivano sotto la superficie della società americana. La sceneggiatura era una polveriera a sé stante e Douglas ne era attratto dal potenziale esplosivo. Sapeva che nelle mani giuste. Questa storia avrebbe potuto essere qualcosa di veramente speciale. La grande arte spesso richiede sacrifici e, un giorno di ordinaria follia, non ha fatto eccezione. Douglas era così convinto dell'importanza del film da rinunciare alle sue solite richieste di stipendio. Non era un gesto da poco per un attore del suo calibro. Riconosceva che il film poteva essere una pietra miliare culturale, avviando una conversazione sui problemi della società. Sezione 5. Modellare una visione. La visione di un regista è fondamentale per il successo di un film. I registi sono gli architetti della storia, i responsabili di tradurre la parola scritta in un mondo vivo sullo schermo. Entra in scena Joel Schumacher, noto per la sua estetica elegante e potenti interpretazioni. Vedeva in Un giorno di ordinaria follia l'opportunità di esplorare il lato oscuro del sogno americano. Sezione 6. Il tocco di un regista. Lo stile registico di Schumacher era perfetto per Un giorno di ordinaria follia. Ha portato nel film un realismo crudo, girando in esterni nei quartieri di Los Angeles, spesso trascurati da Hollywood. Questo ha conferito al film un'immediatezza e un'autenticità che sono piaciute al pubblico. Schumacher aveva anche un occhio particolare per i dettagli e utilizzava sottili spunti visivi per sottolineare i temi del collasso sociale e della disintegrazione personale. Uno dei più grandi punti di forza di Schumacher era la sua capacità di ottenere dagli attori interpretazioni sfumate. Sul set creava un ambiente in cui gli attori si sentivano liberi di esplorare gli aspetti più oscuri dei loro personaggi. Questo è stato particolarmente importante per Douglas, che si avventurava in un territorio inesplorato con la sua interpretazione di defense. Sezione 7. La collaborazione Schumacher-Douglas La collaborazione tra Douglas e Schumacher è stata fondamentale per il successo di Un giorno di ordinaria follia. I due condividevano il rispetto reciproco e la comprensione della storia che stavano cercando di raccontare. Douglas, con la sua volontà di spingersi oltre i limiti e di abbracciare la bruttezza del suo personaggio, ha trovato in Schumacher la spalla perfetta, che ha guidato e plasmato la sua interpretazione con mano ferma. Il loro sodalizio è andato oltre il tipico rapporto attore-regista. I due si sono impegnati in lunghe discussioni sulla sceneggiatura, analizzando le motivazioni di defense ed esplorando le forze sociali che hanno contribuito alla sua caduta. Questo spirito di collaborazione ha permeato l'intera produzione, favorendo un ambiente di creatività e di condivisione degli obiettivi. Sezione 8 Un'eredità consolidata All'uscita nelle sale, un giorno di ordinaria follia ha suscitato polemiche e consensi in ugual misura. Alcuni critici ne hanno lodato lo sguardo implacabile sul lato oscuro del sogno americano, mentre altri lo hanno condannato come irresponsabile e pericoloso. Tuttavia, una cosa era innegabile. Un giorno di ordinaria follia aveva toccato un nervo scoperto. È diventato un parafulmine culturale, innescando dibattiti sulla classe sociale, sul consumismo e sulla disintegrazione della civiltà. Per Michael Douglas, un giorno di ordinaria follia ha consolidato la sua eredità come uno degli attori più talentati e audaci della sua generazione. Ha dimostrato che era molto più di un affascinante protagonista. Era un camaleonte capace di calarsi in personaggi complessi, persino repellenti. La duratura a popolarità del film è la dimostrazione della potenza dell'interpretazione di Douglas e della visione implacabile del regista Joel Schumacher. Sezione 9. Il fascino intramontabile di Un giorno di ordinaria follia. A più di tre decenni dall'uscita nelle sale, un giorno di ordinaria follia continua ad affascinare il pubblico. I suoi temi, l'ansia economica, l'isolamento sociale e l'erosione della civiltà, sono forse ancora più attuali oggi di quanto non lo fossero nel 1993. Il film è un monito, un promemoria della fragilità del contratto sociale e delle conseguenze che si verificano quando gli individui si sentono spinti sull'orlo del baratro. Un giorno di ordinaria follia resiste anche come esempio magistrale di cinema. Dalla sceneggiatura serrata e dalla fotografia cruda alle interpretazioni indimenticabili, il film è la dimostrazione della potenza della narrazione. È un film che rimane impresso a lungo dopo la fine dei titoli di coda, spingendo alla riflessione e forse anche a un pizzico di scomoda autocritica. Sezione 10. Oltre il grande schermo. L'impatto di Un giorno di ordinaria follia si estende ben oltre la sfera dell'intrattenimento. Ha ispirato innumerevoli articoli accademici e studi sociologici che ne hanno analizzato i temi e la loro rilevanza nella società contemporanea. Il titolo stesso del film è entrato nel lessico comune come sinonimo di discesa nel caos e nella disperazione. Un giorno di ordinaria follia ci ricorda che l'arte può essere sia divertente che stimolante. Può essere uno specchio della società, costringendoci a confrontarci con scomode verità su noi stessi e sul mondo che ci circonda. E a volte i film più memorabili sono quelli che osano porre domande difficili, anche se non offrono risposte facili.